Presidente Renzi, ieri sera l'Assemblea ne ha parlato il collega San Germano l'abbiamo seguita, lei c'era, io c'ero nel suo intervento il segretario cittadino Billi ha detto e anche all'intervista a noi della stampa ha confermato che non è assolutamente previsto o ipotizzato un azzeramento delle primarie per febbraio ecco primarie che in questo momento sono a 4 ma potrebbero essere anche a 3 allora? Anche perché Billi ha chiesto un passo indietro a Cioni e Cioni ha detto di no quindi lui vuole andare avanti Guardi, io la vedo in questo modo io penso che alla gente interessi sapere che i politici sono persone serie, oneste, trasparenti e in qualche modo ci mettono la faccia io ne rispondo personalmente e da questo punto di vista parlo per me naturalmente poi gli interessa sapere che cosa pensa lui della necessità di cambiare passo sul tema dei servizi pubblici e locali cosa ne pensa lui di capire che le bollette sono troppo alte che bisogna far funzionare meglio l'Ataf che bisogna riuscire a ridare un sogno alla cultura di questa città l'idea di questo chiacchiericcio tra di noi non aiuta e penso che il Partito Democratico che ha avuto il coraggio di fare la scelta delle primarie dovrebbe uscire da questa sorta di autoanalisi sembriamo un gruppo di alcolisti anonimi che non si riescono a capacitare quello che è successo allora diciamoci le cose con grande franchezza se ci sono dei reati è bene che chi ha sbagliato paghi ma nessuno di noi può giudicare gli altri perché ci sono i magistrati per giudicare non ci sono gli altri politici se un candidato decide di continuare a correre nella fattispecie Graziano Cioni ha un problema suo e dei cittadini che lo vogliono votare ora però avendo continuamente discusso negli ultimi tre giorni, quattro giorni con questa terapia di gruppo su che cosa deve fare il Partito Democratico possiamo domandarci che cosa deve fare da grande Firenze io vorrei che questo fosse l'argomento di discussione del PD siccome le primarie le facciamo solo noi e gli altri non le fanno proviamo a concentrarci sulle grandi sfide della città e penso che questo sia il modo migliore per dimostrare che esiste una generazione nuova di politici che chiede aria fresca, che chiede novità che chiede di portare in qualche modo di nuovo la dimensione della speranza e non soltanto la dimensione della rabbia del rancore, del risentimento ma proviamo finalmente a dare fiducia e credito a questa nuova generazione non continuiamo a discutere Presidente Renzi abbiamo letto nei giorni scorsi tante intercettazioni sui quotidiani che hanno sempre una forza abbastanza destabilizzante sull'opinione pubblica ecco, lei che idea si è fatto dell'inchiesta su Castello e a lei piace quello che è emerso sul fronte della gestione della cosa pubblica cioè, voglio dire si rispecchia in questo modo di gestire la cosa pubblica? io quello che avevo da dire sulle vicende giudiziarie e politiche di questo territorio l'ho detto ai magistrati ci ho anche messo sei ore sicché qualcosa da dire ce l'avevo ci ho messo sei ore e siamo stati un bel pezzo di tempo di giornata a discutere ovviamente come persona informata dai fatti quindi io non ho nessun tipo di indagine né di responsabilità questo per essere molto chiari e penso che sia giusto che si faccia così chi ha qualcosa da dire bene che lo dica ai magistrati poi c'è questa sentimento perché i magistrati hanno apprezzato questa questo bisogna chiedere no, no, io non questo lo so io sto tentando di carpirle qualcosa ma figuriamoci se mi metto di fronte a un'indagine se mi metto di fronte a un'indagine potrei parlare ore senza dire nulla lei lo sa, Betti quindi potete stare tranquillo da questo punto di vista non mi piace nemmeno questo modo di controllare andare a verificare a capire come dire quando si passa dal buco della serratura a controllare cosa fanno le singole persone anche dal punto di vista personale dopodiché c'è una cosa chiara che questa città probabilmente oggi merita un cambio di passo questo è un dato di fatto che possiamo dirci che merita che ci sia un rinnovamento profondo nello stile, nei modi anche nell'idea stessa di politica perché un ragazzo oggi deve fare politica? un ragazzo oggi può e deve fare politica perché la politica non è uno schifo di intercettazioni raccomandazioni, piccole clientele, piccoli favoritismi la politica è quel grande sogno che in qualche modo mette insieme le passioni e i progetti di un popolo io credo che oggi il popolo fiorentino non mi piace dire popolo non mi piace dire insieme spezzettato di gente abbia la possibilità di progettare il proprio futuro allora non è che non voglio parlare delle vicende del passato figuriamoci siamo pronti a discutere di tutto di tutto quello che abbiamo fatto e quello che non abbiamo fatto non sono disponibile non sono disponibile non sono disponibile a mettere tutti sullo stesso piano a dire tutti sono uguali chi ha responsabilità affronti le proprie responsabilità noi abbiamo il compito di guardare al futuro allora io mi allargo anche su altri temi perché con il presidente Renzi vogliamo un po' capire anche quali sono gli scenari dal punto di vista anche dei programmi di questa Firenze che ha bisogno di molte cose e cerchiamo un po' di capire anche quali candidati hanno particolare attenzione lei parlava di perché un giovane vuole entrare in politica ci vuole raccontare come per esempio un giovane che si chiamava Matteo Renzi nel 1996 diciamo dopo lo sconquasso di Tangentopolo dopo una crisi dei partiti che poi secondo me in maniera molto limitativa è stata chiamata prima Repubblica ma in realtà insomma il terremoto c'è stato come mai lei ha iniziato e ha voluto iniziare la politica perché? beh è una cosa un po' strana perché io avevo degli amici perché la politica non è una cosa che si fa da soli chi vi racconta che per fare politica bisogna essere ambiziosi desiderosi di arrivare vi racconta una cosa che in realtà non è vera io avevo degli amici degli amici che allora scelsero di seguire un progetto totalmente innovativo che era il progetto di Romano Prodi del primo Prodi il secondo Prodi diciamo è sembrato un po' addormentato anche a noi diciamoci la verità il primo Prodi quel Prodi che scommetteva con grande energia su un'Italia diversa che ci chiedeva di mettersi in gioco e noi allora ci buttammo con un gruppettino di ragazzi e decidemmo che insieme potevamo fare qualcosa nel nostro piccolo penso che per fare politica ci sia sempre bisogno di qualcuno che ti stimoli infatti a me piacerebbe dirlo oggi ai fiorentini in particolar modo ai giovani fiorentini ragazzi questa è una grande occasione questa è una grande opportunità che è quella di non semplicemente sentir dire che cosa farà il Renzi cosa farà l'Alastri cosa farà il Pistelli o cosa farà il Cioni ma venire a dire cosa volete fare voi per la vostra città per non rinchiudervi nella logica degli uffa però uffa però non si può cambiare nulla sa che oggi Betty in America vige il motto di Obama troppo spesso la traduzione fiorentina è un sipole yes we can vuol dire sì possiamo a Firenze c'è un sipole l'aeroporto nuovo un sipole lo stadio nuovo un sipole la barberina incisa un sipole troppo spesso c'è questo rischio di essere rassegnati Veltroni ne ha coniato uno simile si può fare però Veltroni ce l'ha fatta diciamoci le cose come stanno anche Obama per questo Obama ce l'ha fatta Veltroni no questa è la differenza fondamentale io sono uno di quelli che dice che chi perde le elezioni bisognerebbe che facesse un passo indietro perché qui si continua tutte le volte che i politici perdono le elezioni e continuano a rimanere lì ma insomma questo è un altro discorso insomma io ho iniziato a fare politica perché ero con un po' di amici ho continuato il mio lavoro mi sono laureato ho iniziato la mia attività professionale penso che sia importante che i politici di oggi non vivano solo di politica penso che sia importante che i politici di oggi abbiano un lavoro facciano il servizio della politica quando finisce questo servizio tornino a lavorare lo dico perché sono tra i quattro candidati l'unico che ha detto che se perde torna a fare il lavoro che faceva prima torna a servire la propria comunità svolgendo un lavoro nel privato e in questo percorso mi è capitato un po' per caso un po' per fortuna di incrociare persone significative di tirare fuori idee di portare un po' di entusiasmo penso ci voglia anche un po' di entusiasmo e oggi che ho 33 anni credo di essere nelle condizioni non di poter dire cambieremo Firenze ma di poter dire proveremo insieme a costruire una nuova generazione di persone che governi Firenze facendoci aiutare dall'esperienza di tutti in particolar modo degli anziani che a Firenze sono sempre più numerosi e che non sono un problema sono innanzitutto una risorsa un'opportunità ci possono dare una mano un consiglio un'idea un suggerimento però dobbiamo farlo noi dobbiamo smettere di stare a poltrire dobbiamo smettere di fare i bamboccioni basta con i bamboccioni mettiamoci in gioco a sto